eccoci qua benvenuti al wordpress meetup cagliari eravamo già da un annetto che non che non ci sentivamo l'incontro di oggi riguarderà la storia di cinque grandissime professioniste che comunque mi hanno ispirato comunque durante il mio ingresso nella contribuzione io lavoro con wordpress dal 2012 sono appassionato da molto prima dell'open source però diciamo che i miei primi passi nella contribuzione sono iniziati nel 2019 esattamente con il world camp torino 2019 ho scoperto che nel 2019 tantissimi del meetup hanno in quel world camp hanno hanno iniziato questo evento nasce anche come collaborazione o adesione alla settimana del rosaggio digitale week un movimento per le varie opportunità in questo campo e noi essendo operatori del quotidiano in questo campo comunque anche diciamo una sorta di dovere occuparci anche anche di questo le professioniste che oggi vi farò conoscere possiamo trovare diverse diversi tipi di professionalità diversa e ruoli nella community diversa lato mio possiamo trovare le persone con cui ho organizzato assieme per esempio work camp italia del 2022 o chi mi ha fatto da mentore per il team budget di quell'anno o c'è la per c'è il primo torino che ho sentito di un in un in un work camp qui presente o quelli con cui sto organizzando anche work camp europe di quest'anno che la prima volta da in cui organizzo un evento così così grosso io vorrei partire da 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 giacoma uno dei primi talk che ho ascoltato in un meetup era proprio il suo vi presento allora giacoma attiviamo ecco io giustamente stavo andando io ad attivare si disattivava ciao a tutti e tutte io sono giacoma gli amici e soprattutto nella community mi conoscono più con il diminutivo minato nel 2016 probabilmente mentre ero ancora in fase di studi universitari avevo ero più o meno a metà del percorso e ho deciso di iniziare a partecipare alla community per avere un ea di come funzionino gruppi in ambito informatico misti e diciamo tutti questi aspetti che sono almeno per chi come me all'epoca era ancora l'università molto più simili a quello che poi avrei trovato come ambiente lavorativo rispetto a quello universitario dove sei abbastanza da solo e ho iniziato a contribuire come membro dal team polyglots da cui poi praticamente non non ho mai abbandonato e tutto sempre lì come potevo in che diciamo in che modo fosse più utile e la mia partecipazione poi è stata apprezzata per cui iniziai a diventare pte di alcuni plugin o temi e poi laura mi chiese con laura mi chiese solitamente vuol dire ti prende la sprovvista e ti annuncia che diventerai gte e per chi non lo sa è praticamente quel quel gruppo di persone del team polyglot che si occupa della gestione del team e di dare un aiuto anche nella revisione e quando qualcuno propone delle stringhe la mia esperienza è stata un'esperienza un po atipica nel senso che io mi occupo di sviluppo e dopo il periodo universitario io non ho mai usato wordpress per lavoro tuttora non l'utilizzo però la verità è che la community wordpress è talmente variegata come persone come professionalità dove anche io che non lavoro con wordpress ogni tanto capita che fosse ancora utile tuttora matteo mi ha detto che questo tipo di eventi solitamente sono diciamo partecipano persone che sono insegnanti o studenti e se vi posso dare un consiglio e di non avere paura di provare ad inserirvi in una community inizialmente può fare paura perché la community di wordpress molto grande molto articolata quindi sembra un macello all'inizio non sai dove dove mettere le mani però c'è sempre qualcuno disposto ad aiutare e una community dove puoi provare cioè io sono una persona molto timida in questo momento non vedo l'ora di finire di parlare passare la parola a qualcun altro e nonostante tutto ho avuto occasione di anche proporre alcuni talk quello che di cui parlava matteo del 2019 di quello per esempio non ricordo assolutamente nulla se no la gente che entrava io che mi chiedevo perché continuate ad entrare ci sono tanti altri talk è un talk anche in inglese quindi la community wordpress è una community molto variegata molto tranquilla potete partecipare molto tranquillamente qualcuno troverà qualcosa da farvi fare questo è sicuro matteo dimmi tu se ho coperto più o meno quello che intendevi come presentazione si è saltato qualcosa no no perfetto perfetto grazie poi ho visto che laura alzato le mani un paio di volte per proporre qualche task grazie allora passiamo la palla visto che lei già nominata passiamo a laura che comunque mi aiuta è stata comunque mia mentore quando mi ha fatto world camp italia del 2022 in qui erano nel team nel team budget sponsor a sponsor giusto si chiamavano cambiato anche il nome quindi è sempre di soldi comunque sempre raccogliere soldi solo che in un caso li raccogliamo nell'altro li spendiamo quindi vai laura ok non so mi sono sentita molto chiamata in causa già da prima da matteo poi da non so perché mi sento molto coinvolta allora sono laura la sacco come nickname quasi ovunque e io sono la mia storia è molto diversa da quella di mina perché lei una super tecnica super dev insomma proprio di quelle che ne sa di codice io non ne so assolutamente una mazza di niente e ho iniziato io sono un'educatrice professionale di professione di background e nel 2015 mi sono trovata il progetto che stavo seguendo che stavo coordinando è passato di gestione e io mi sono ritrovata nel 2015 senza un lavoro lavoravo da 30 anni nel sociale e con ruoli diversi non solo come educatrice poi insomma ho fatto tante altre cose però lavoravo nel sociale ero molto arrabbiata ero a metà del cammin della mia vita anzi probabilmente più di metà del cammin della mia vita e non volevo fare assolutamente andare a bussare le porte dei miei amici nel non profit però come dire avevo una certa età e insomma soprattutto non avevo mai lavorato nel profit e quindi non sapevo neanche come propormi cosa proporre come fare il curriculum banalmente per un perché non avevo mai fatto a parte il curriculum in formato europeo quelli terribili per partecipare ai bandi pubblici per il resto non sapevo propormi a un'azienda profit così ho fatto un percorso con una job coach questo questi incontri con questa job coach avvenivano in un luogo di torino che si chiama toolbox toolbox è uno spazio di coworking conosciuto nel mondo wordpress italia perché li teniamo i work camp torino ecco io sono diciamo di torino li teniamo i work camp torino e anche i meet up torino e tutti i mesi e quindi a toolbox al tempo non c'era ancora la digitalizzazione c'era una magnifica parete colorata diciamo a lavagna predisposta lavagna dove c'erano tutti gli appuntamenti del mese del del mese in corso e io ho visto che c'era il wordpress meet up di torino io conoscevo wordpress perché comunque nella mia evoluzione di carriera mi era occupata della costruzione del sito del progetto che stavo seguendo gestivo il blog insomma quindi smanettavo già su wordpress ma non sapevo assolutamente nulla della community tantomeno che potesse esistere un meet up di wordpress una roba così però dalla mia esperienza passata sapevo che era fondamentale per me trovarmi dei luoghi dei network cosiddetto no c'è delle reti delle reti di relazione degli ambienti dove incontrare gente e così partecipai al wordpress meet up del settembre 2015 il meet up di torino era appena nato allora c'era un grande nome francesca marano che chi è all'interno della community di wordpress conosce perché insomma ha fatto tante cose tra cui anche essere lead di credo almeno un paio di release di wordpress quindi insomma lei di codice anche un po' ne sa e anche di project management e comunque c'era francesca e insomma francesca tra le molte doti che ha ha doti di comunicazione e di coinvolgimento e quindi è stata la mia maestra quando dite che io vi becco e vi coinvolgo e perché in realtà ho imparato a mia volta e francesca entusiasta di wordpress assolutamente tra l'altro quello è il wordpress il meet up di torino era nato a maggio quindi insomma quella era la terza volta che si incontravano terzo quarta tra l'altro molto numerose con più di 70 persone e insomma francesca continuava a dire no ma entrate in wordpress nella community la community è bellissima presa in questo momento della mia vita per cui potevo diventare un alcolizzata una casalinga alcolizzata invece sono diventata una traduttrice seriale perché di wordpress perché sostanzialmente ovviamente il motivo insomma il motivo di francesca era si può entrare nella community di wordpress anche senza conoscere codice e senza essere appunto del sviluppatrici o sviluppatori di wordpress quindi super nerd quindi era il mio no allora quando io le chiesi ma allora come posso fare insomma lei ci presentò tutti i vari team della community e poi quindi appunto il team diciamo più più accessibile è il team dei poliglot al tempo non esisteva il team dei poliglot o meglio esisteva esisteva c'era walli che purtroppo ci ha lasciato due anni fa c'era walli che traduceva wordpress in italiano però non esisteva un vero e proprio team allora io con francesca ho organizzato una sabato di contribuzione esclusivamente sui poliglot con con walli tra l'altro in quel periodo la community italiana si stava riorganizzando quindi non era solo il team dei poliglot era proprio tutta la community che si stava riorganizzando e noi a torino abbiamo fatto questa giornata questo sabato mezza giornata di contribuzione sul sui poliglots io li ho capito come contribuire ai poliglots ho iniziato a tradurre 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 appunto anziché darmi all'alcol e e walli e che è stato il mio secondo maestro a un certo punto mi ha nominato dice adesso ti nomino gte e io no gte no o per carità non sia mai gte sempre global translator editor cioè la persona che può approvare tutti i tipi di traduzione nel ecosistema wordpress io no gte no gte no insomma allora mi dice vabbè allora ti faccio pte c'è project translator editor un livello più basso per tutti i temi e i plugin cioè praticamente era come essere un gte senza però avere il potere di nominare altre persone come gte poi ci fu una intanto io quindi ho iniziato a tradurre ho iniziato a con walli a riorganizzare la community dei poliglots italiani per cui come la conoscete adesso in realtà è una trasformazione ma è frutto di quella riorganizzazione e poi ci fu ad aprile un translation day cioè una giornata mondiale dedicata alla contribuzione nel campo di wordpress e insomma cerco di tagliare un po perché sennò io vi parlo solo di questo e comunque in quella in quel momento lì walli mi nominò in diretta mondiale gte cioè annunciò al mondo in diretta mondiale e cliccò il pulsante dicendo laura l'italia ha una nuova gte laura e da cui ho imparato la tecnica e quindi quando a mia volta nomino i gte come dire lo faccio a sorpresa così perché con l'effetto caramba eh nel frattempo però eh dovevo anche cercare di eh come dire ehm guadagnarmi la pagnotta insomma di trovare un lavoro eh perché eh la contribuzione volontaria è bellissima ma non mi dava lavoro ehm a un certo punto eh una mia amica eh un'altra gte eh faccio il nome Alice Orru che è stata credo la quella che ho nominato a gte dopo di me potrebbe essere ehm Alice eh sarda Alice che è sarda eh ma vive in Spagna vabbè dal cognome era facilissimo Alice Orru era facile eh Alice eh mi segnalò un'offerta di lavoro eh di automatic che è l'azienda che sta dietro a wordpress.com e che sta dietro insomma a a Jetpack, a WooCommerce eccetera. Eh io non ci pensavo proprio a lavorare all'interno dell'ecosistema wordpress perché la sindrome dell'impostore come dire era su di me sulle mie spalle io come faccio a lavorare nel campo wordpress se non so sviluppare va bene tradurre ok ma le traduzioni non è che con le traduzioni civili ehm mandai la eh la la l'application mandai la domanda e automatico mi disse di no ehm nello stesso tempo però eh intercettai un'altra un'altra offerta e eh che mi dissero di sì eh questa volta per per un'azienda che sviluppava temi un'azienda rumena credo bulgara non so mai che sviluppava temi eh e tra l'altro la stessa azienda eh che eh il cui tema che è stata il mio la mia prima contribuzione cioè io avevo tradotto il loro tema che in quel momento era un tema di punta l'avevo tradotto in italiano perché io nel frattempo stavo lavorando sulla mia idea di business e una mia diciamo cliente è una delle mie prime clienti usava quel tema lì e eh allora io lei non aveva l'odio per l'inglese io glielo tradotto in italiano quell'azienda lì poi tempo dopo mi affidò tutte le traduzioni dei loro temi e poi eh cioè mi contattò proprio direttamente chiedendomi ma ci tradurrei visto che hai fatto sto bel lavoro perché non fai per lavoro veramente pagato a tutto il resto e e poi quando feci domanda per lavorare da loro come agente di supporto eh mi avrebbero anche presa solo che eh i loro livelli di stipendio erano un po' bassi io nel frattempo mi ero tarata un po' più in alto insomma anche rispetto al mio livello di vita però eh la cosa che voglio sottolineare rispetto a questo è che lì si è sbloccato qualcosa cioè si è sbloccato il fatto che io stando nella community e contribuendo avevo acquisito delle competenze e l'avevo fatto per puro volontariato ma avevo acquisito delle competenze e queste competenze erano spendibili sul mercato del lavoro questo è eh un dato molto importante ed è lo stesso dato che in realtà mi ha portato dove sono oggi cioè a lavorare per Yoast che è una delle aziende eh più grosse nel campo di Wordpress che sviluppa eh il più famoso plugin per l'ottimizzazione SEO dei motori di ricerca degli dei siti per i motori di ricerca eh e eh lavoro per per loro dal marzo 2018 come sono arrivata da loro è un altro aneddoto che magari racconto alla fine eh lì lavoro come agente di supporto quindi faccio supporto tecnico per un plugin quindi ulteriore eh come dire eh upgrade della mia professionalità eh continuo a non sapere il codice adesso un po' meno di nulla ecco adesso qualcosina capisco un po' un po' più di prima eh però continuo a non essere una persona che sviluppa ma sono in grado di fare eh supporto tecnico per un plugin e tutto questo continuando proprio grazie alla community e contribuendo alla community mi taccio se no vado avanti fino a domani grazie Laura bellissima storia ho visto che sono anche aggiunti Gloria prima anche col suo assistente eh Alessandro nel mentre che Gloria prende un po' fiato magari facciamo parlare Margherita che comunque è stata mia compagna di diversi contributor day soprattutto coi polyglot e anche comunque abbiamo organizzato comunque diversi work camp assieme e ne stiamo organizzando uno insieme anche adesso quindi Margherita tocca a te siamo sentite sì sì allora eh dunque la mia storia è come dire eh riguarda diciamo abbiamo lo stesso gancio di ingresso eh con Laura perché anch'io sono stata tirata dentro alla community da Francesca Marano eh io a quel tempo leggevo un sacco di blog riguardanti diciamo così il business eh premetto che io ho iniziato a usare wordpress eh diciamo eh abbastanza in là con l'età è stato un ripiego eh un ripiego perché dopo non lo so n mila lavori precari a un certo momento della mia vita con una famiglia una casa nuova un figlio piccolo e un altro abbastanza un po' più grande insomma sulle spalle eh l'ennesima azienda che mi lascia a casa c'era un corso di formazione professionalizzante con quelli che erano i fondi sociali europei eh da un titolo abbastanza bizzarro eh perché si chiamava eh open esperto in open data standard me l'ho scritto perché sennò tutte le volte me lo dimentico esperto in open data standard di open source software eh mi scrivo un po' a kamikaze cioè non sapendo avendo proprio la la più pallida idea di che cosa di che cosa trattasse e frequentandolo alla fine mi sono accorta che in sostanza parlava di web design e in particolare di un di un software che è molto simile diciamo un competitor di di un wordpress che è Joomla e quindi va bene io completo questo questo corso e faccio uno stage entro a a lavorare per un annetto nell'agenzia che mi aveva fatto che mi aveva tenuto per lo stage eh in nero e un'agenzia una piccola agenzia di provincia che stava a venticinque chilometri da casa e per mezza giornata per un stipendio veramente irrisorio solo che diciamo io ehm sfornavo un sito web da sola ehm uno ogni quindici giorni grosso modo facendo diciamo dall'account al copy al design alla grafica insomma facevo tutto tutto da da sola lasciata lì e nella scrivania scrivania a tirar fuori eh questi siti questi siti web e e ovviamente questa cosa mi ha dato una grande diciamo cioè la possibilità di fare un sacco di palestra sulle spalle degli altri no però ovviamente io ho imparato un mestiere una tecnica ho visto le cose che mi piacevano fare e come le volevo fare e poi a un certo punto mentre stavo in questa agenzia eh arriva una cliente diciamo così affezionata con questa agenzia molto particolare molto ehm diciamo puntigliosa e credo fosse intorno al duemila tredici duemila sì duemila tredici eh si era fissata che in sostanza voleva un il restyling del suo sito e voleva un un tema che praticamente ehm permettesse di una galleria no dei suoi dei suoi dei suoi quadri perché è una pittrice eh che scorresse come come diciamo scorrono adesso i caroselli su Instagram no quindi in orizzontale facesse il il swipe no in orizzontale eh mi faccio la mia ricerca su la 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 i vari siti dove accostavamo i temi già fatti eh per giumila e praticamente non ne trovo nemmeno uno ma ne trovo uno fantastico bellissimo eh per wordpress quindi vado dal capo e gli dico guarda eh per giumila non c'è niente c'è solo per wordpress ma io non so fare eh e lui mi ha detto no eh niente c'è solo questo e devi farlo quindi ecco per senso del dovere ho passato un weekend a cercarmi quindi la documentazione su come funzionasse diciamo questo questo wordpress a lunedì vado e inizio diciamo questa installazione a il primo tutorial che ho trovato su su come si installasse wordpress era di di e quindi procedo e quindi procedo vado e faccio questa installazione e ci metto cinque minuti al contrario di quello che invece serviva un sacco di tempo eh per per installare wordpress perché ancora non c'era il il pulsantino no sull'hosting che che facesse la l'installazione automatica e quindi come è finita questa installazione ho detto mai più indietro mai più giumila solo wordpress e e quindi ecco dopo quell'installazione in realtà io eh ho aperto la mia partita IVA e ho iniziato a fare siti diciamo per per fatti miei quindi per con i miei clienti anzi le mie clienti perché lavoro essenzialmente con le donne quindi liberi professioniste e piccole imprenditrici e a un certo punto appunto eh leggevo un sacco di questi blog che parlavano appunto di business al femminile dell'organizzazione eh del lavoro da freelance ehm tra cui il famoso blog cpb eh fondato da Francesca Marano e una volta e una volta lei viene a parlare a a Lancona che è la diciamo la città di il capoluogo di provincia dove abito e e io vado per incontrarla già avevamo avuto dei contatti vado per incontrarla lei parlava di wordpress ovviamente e e lei inizia inizia a dirmi che in sostanza dovevo aprire una un mitatto a Lancona e quando ci salutiamo insomma vi lascio diciamo così un po' eh una mezza promessa e poi io inizio a controllare e diciamo a fare delle ricerche no per vedere se effettivamente questo gruppo esisteva oppure no e non riuscivo diciamo a darmi una motivazione per cui eh non esistesse un meetup dalle mie parti eh perché secondo me era una roba bellissima no il fatto di organizzare appunto questi incontri a tema wordpress eh che già sapevo essere usato da moltissime agenzie e moltissime altre presenze come me insomma persone che io conoscevo anche appunto cioè di persone non solamente conosciuti in rete e e quindi sono stata a pensare sopra quest'idea di aprire il meetup per un sacco di tempo un po' per il la famosa sindrome dell'impostore che ha già citato eh Laura perché pensavo che appunto cioè che cosa potevo eh raccontare no alle persone oppure che competenze insomma servissero per organizzare questi questi incontri fino a che eh ne ho parlato appunto con un mio amico eh che ringrazierò sempre perché è stato diciamo un po' anche diciamo lo sponsor per 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 partire questi 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 incontri perché appunto lui lavorava al ci lavora tuttora all'informa giovani di Ancona eh che aveva una una bellissima sala molti 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 diciamo anche polifunzionale eh e da lì insomma abbiamo fatto l'application e siamo partiti siamo partiti diciamo come ehm contributrice ehm nella figura di del di la organizzatrice di di questi di questi di questi meetup mensili eh poi successivamente e che successivamente quindi diciamo niente è stato lineare della mia unità e anche questo molti molte persone ovviamente prima partecipano a altri meetup oppure a dei work camp e poi iniziano a contribuire io al contrario primo ho aperto il meetup e poi sono stata al mio primo ehm work camp eh che se non ricordo male era Torino 2017 e e da lì io sono rimasta proprio cioè fulgurata da innanzitutto proprio dal contributor day perché secondo me è solamente partecipando al contributor day che eh ci si rende conto effettivamente del lavoro di contribuzione che c'è dietro di come funziona veramente di come funziona veramente WordPress ehm di cosa significa la community open source e di cosa significa portare avanti eh un progetto diciamo open source a livello mondiale quindi non solamente eh diciamo così a livello locale e poi ecco insomma da lì in poi non mi sono fermata e diciamo che ho fatto ho contribuito in diversi gruppi in maniera diciamo più o meno eh continua eh perché a me piace cambiare io sono una che ho bisogno di stimoli continui e quindi per un bel po eh sono stata solamente dentro il gruppo di community quindi attivare avanti eh le attività del team community eh e poi ecco ecco ultimamente eh sono diventata ehm il trasletico coordinator del del gruppo training del team training che si occupa della della produzione e della traduzione dei contenuti per la formazione della delle persone no su YouTube WordPress quindi e che sono anche Pte del del progetto appunto appunto learn che è la piattaforma eh dove le persone possono fluire appunto dei contenuti eh creati da da training e dentro la community vabbè faccio anche altre cose ma adesso li stiamo a raccontare con te e grazie Margherita ok adesso passiamo magari alla persona che stresso ogni volta che c'è di mezzo il meet up o la community di Isotta ok grazie aspettavo che mi mi togliessi tu il mute e quindi ero così un pochino in attesa scusami eh comunque no Matteo prima innanzitutto non mi stressi assolutamente mai anzi è un piacere ehm grazie mille per aver organizzato questo evento per avermi invitata insieme a queste grandi professioniste e anche per aver organizzato questo evento in occasione delle delle iniziative di di Rosa Digitale che è un movimento che io non conoscevo conosciuto grazie a te e al quale però mi mi sento estremamente vicina perché insomma mh io vabbè innanzitutto ciao a tutte ciao a tutti ehm io sono Isotta eh originaria di di Savona ma ormai da più da più di dieci anni ehm sono in Spagna eh vivo vivo Barcellona al momento ehm sono sono una femminista molto convinta eh da sempre sono appassionata di qualsiasi azione che possa aiutare a eh colmare mh l'ivario e le disparità che ancora esistono nel tra i generi soprattutto in Italia e in Spagna che sono i due paesi in cui ho vissuto eh di più e poi insomma mi interessano molto iniziative che ehm possano portare eh opportunità perlomeno opportunità a chiunque e questa è anche una cosa che eh una cosa che mi lega molto che ho trovato nella comunità nella comunità di WordPress. La mia storia è una storia ancora diversa rispetto alle alle altre ragazze che che hanno già condiviso la loro prima di me la proverò a fare una una breve sintesi ehm anche io vengo da un un background che non ha nulla a che vedere con il mondo tecnico ma ho studiato traduzione e interpretariato all'università e poi per molti anni ho lavorato mh in un eh in una multinazionale ehm un'agenzia online occupandomi soprattutto di iniziando con la vendita e poi passando a formazione e implementazione di progetti. ehm da lì mi sono appassionata a lavoro in remoto lavorando con team ehm in diversi paesi e lavorando in forma ibrida un po' in in ufficio a a Madrid in Spagna e poi collaborando con Francia, Marocco, ehm India e altri paesi e ho cominciato a scoprire l'esistenza di un mondo che non poteva andare al di là del del quattro mura dell'ufficio. Purtroppo non sono mai riuscita a lavorare, a mantenermi facendo la traduttrice che era il mio obiettivo quando ero ragazza insomma, quando ero all'università però casi della vita tutto quello che facciamo poi si si manifesta in qualche modo nel nostro futuro. Mentre lavoravo per questa agenzia online mi occupavo anche di di formazione, di eh creazione di di materiale documentazione e di traduzione del materiale in diverse lingue. Il un problema grosso eh che avevo in nel mio ambito lavorativo era un eh una mancanza di ehm condivisione di valori, dei miei valori personali e eh con i valori dell'azienda e le e l'ambiente diciamo creato in azienda. Questo portò fortunatamente a a un licenziamento quindi anche io come eh come già hanno condiviso da eh da altre ho ehm perso il lavoro e nel mio caso mh lo prendo veramente come una benedizione perché mi mh in quel momento lì eh e mi proprio ok l'impulso di dire ok proviamo qualcosa di diverso perché tanto ormai il un lavoro non ce l'ho più quindi posso scegliere qualsiasi delle opportunità che eh che io stessa mi voglio creare e quindi mh da lì incominciai a organizzare un ehm creare un brand e organizzare eventi eh eventi relativi ehm legati al mondo del della cucina che era una delle mie passioni con l'obiettivo finale di creare piano piano un'azienda un ambiente lavorativo che si riflettesse i miei valori eh e soprattutto ehm è sempre mi è sempre portato molto il fatto che ci sia rispetto e collaborazione più che ehm più che ui come si dice questo in italiano ehm ok il fatto che le persone con l'inglese o in spagnolo tanto capiamo qua siamo poliglot la metà di partecipanti siamo poliglot vuoi che che non sappiamo tradurre in italiano eh ok ve lo dico in spagnolo competenzia competenze no e perché invece insomma è un falso sì è un falso amico eh invece di eh abilità parci la guerra tra colleghi ah collaborazione collaborazione sì esatto per portare avanti la collaborazione invece di eh scontrarci per arrivare ai nostri risultati eh e soprattutto il il volevo creare un posto in cui sentirmi felice e sentirmi di star generando un ambiente positivo di collaborazione e che potesse permettere a tutte le persone coinvolte anche un un livello di vita degno seconda delle delle necessità di ciascuno all'epoca questo era il duemiladiciotto l'ambiente lavorativo sia in Italia sia in Spagna non era mh forse il massimo almeno per le persone con il mio il mio background e così iniziai questa nuova questa nuova avventura tutto bene fino al duemilaventi perché organizzando eventi presenziali e con il covid a marzo duemilaventi è finito tutto così cercai di eh di rifarmi sul mondo online e organizzando sempre eventi relativi al al mondo della cucina creando stavo coltivando un paio di comunità online ehm intorno a questi in questi argomenti ehm sono riuscita a sopravvivere con questa attività un paio di anni eh sì quasi un paio di anni un anno e mezzo direi ehm fino facendo attività magari per compagnie che lavoravano in remoto per persone ehm per freelancer con clienti ehm che gestivano comunque relazioni lavorative in remoto fino a quando però non non ce l'ho fatta più le tasse non mi hanno permesso di di andare avanti non ero ancora arrivato al livello di ingressi che mi potessero permettere di mantenere in tutto e per tutto la eh l'attività e la mia vita e soprattutto eh erano passati ormai quasi due anni ehm praticamente mh avendo mia moglie come fonte il suo lavoro come fonte principale di di ingressi e sempre questo era un lavoro in Spagna nel 2020 non era nel massimo in quelle condizioni e non non le aveva nemmeno lei per cui era arrivato il momento di dire va bene chiudiamo tutto chiudiamo baracca Buratini cerchiamo di nuovo un lavoro in ehm in un'azienda ehm ehm qui vi voglio proprio condividere tiro fuori le mie note perché vi voglio condividere il il processo eh che seguì perché era comunque chiaro per me di non voler ritornare a lavorare in un ambiente eh in un ambiente ehm negativo eh avevo certi requisiti che per me erano erano fondamentali e quindi feci una lista proprio una una lista di tutte le caratteristiche principali che avrei voluto trovare nel nuovo posto di lavoro nel tipo di lavoro nell'azienda non avevo nessuna nessun requisito specifico per proprio poi il lavoro materiale ero aperta a qualsiasi cosa le mie le mie esperienze potessero eh potessero rendersi utili in negli anni in questi anni passati avevo era importante menzionare che ehm avevo svolto lavori di volontariato in ambiti diversi quindi mh avevo gestito delle comunità online che mi avevano portato poi a prendere a studiare per passare l'esame da community manager e a prendere una certificazione che all'epoca presi così perché non si sa mai questa fu proprio la mia eh la motivazione che mi spiega prima ma lo sto già facendo come volontaria prendiamoci una certificazione che non si sa mai ehm e poi avevo anche lavorato per qualche anno come volontaria in eh in ambienti relativi alla alla terza età e al momento di dover ricreare il mio curriculum come come diceva Laura ormai erano anni che non l'avevo toccato ehm volevo uno dei requisiti eh per me era lavorare completamente remoto quindi non non volevo prendere in considerazione l'opzione di ritornare in un ufficio mi disse ok dobbiamo rifare il curriculum e fare in modo che sia ehm che possa attrarre l'interesse di tipi di aziende completamente diverse da quelle eh con cui avevo lavorato finora e lì la tecnologia mi tiene una grande mano perché cominciai a scopiazzare da una parte dall'altra sui vari profili di LinkedIn delle persone che secondo me avevano un profilo interessante quindi iniziai ad aggiustare il modo di il modo di presentarmi principalmente perché eh poi nel mio curriculum aggiunsi tutte cose vere e esperienze avute ma imparai a presentarle in una maniera in una maniera un attimino più interessante perché magari cose che per me erano ovvie del per esempio il lavoro di volontariato che stavo svolgendo eh per un possibile un attore di lavoro una possibile azienda invece erano skill e competenze che avrei potuto usare per eh aiutare a raggiungere i loro risultati quindi eh assolutamente analizzai tutte le capacità che avevo imparato tutte le abilità che avevo imparato e gli strumenti che avevo usato non solo durante i miei lavori eh diciamo pagati ma anche nell'attività da volontaria e li inclusi tutti nel nel mio curriculum ehm poi fortunatamente dopo essere stata in un in qualche processo di selezione sempre per aziende aziende tecnologiche soprattutto eh fuori Italia e fuori Spagna eh sono stata nel processo di selezione per aziende americane aziende del nord Europa ehm iniziai un processo di selezione anche per automatic la stessa azienda che Laura ha menzionato prima io non avevo idee all'epoca di cosa fosse automatic conoscevo di wordpress conoscevo solo ok wordpress il mio il sito web delle del mio business era fatto era stato fatto da una persona professionista usando wordpress ci sono i forum questa era la mia conoscenza di wordpress al momento di di iniziare questo eh questo processo di selezione e questa azienda stava cercando eh un profilo di community ciao una partecipante che se ne va che stavo spiegando per chi per chi sentirà la registrazione o guarderà il video come mai mi fossi bloccata a salutare ehm e quindi eh applica per questa posizione in cui si cercava una persona con esperienza in community in community management eh possibilmente una persona che conoscesse più lingue e che potesse avere familiarità anche con attività di training con attività di eventi ehm per una posizione remota e soprattutto la cosa che mi mi interessò più di ogni altra nel nella lista nella descrizione del del lavoro era che era una persona che sarebbe stata donata a un progetto senza scopo di lucro e io dito ok chissà chi sono questi facciamo andiamo e niente poi andò bene rimasi in questo processo di di selezione un mese e mezzo due mesi con e a mano a mano in ogni step imparavo qualcosa di più sulla community ehm quindi il mio primo ingresso è arrivato dall'altro lato sono stata assunta in un'azienda che mi ha donata eh il cento per cento del mio tempo la settimana completa ehm ad aiutare ad appoggiare il progetto open source di di wordpress e nello specifico il community team quindi ehm ho passato gli ultimi due anni a lavorare a stretto contatto con le organizzatrici e gli organizzatori di di eventi di wordpress il a mano a mano che mh passava il tempo avevo anche opportunità di conoscere tutti gli altri team di contribuzione le altre persone i progetti che fanno parte dell'ecosistema mi mi si è aperto veramente un mondo ehm io all'università studiando traduzione mi ricordo tutte le volte in cui chiedevo alle professoresse ai professori ci sono dei progetti a cui possiamo eh collaborare ci sono mh ci sono progetti di traduzione attivi a cui possiamo dare una mano eh e non avrei minimamente preteso di essere pagata all'epoca volevo farmi esperienza volevo costruire il curriculum e creare contatti e quando poi ho scoperto le il team dei poliglot lì mi è venuto mi sono riveluso i venti tutti gli anni dell'università perché se io mi immagino mh io adesso in università voglio diventare traduttrice ho un mondo mi si aprirebbe un mondo unendomi al al team dei poliglot farei esperienza imparerai di altre altre persone professioniste conoscerei altre professioniste del settore e professioniste di altri settori e quindi le possibilità e le opportunità si moltiplicherebbero e lo stesso secondo me potrebbe succedere con qualsiasi altro eh team di di contribuzione anche se se è vero come come è stato già detto ehm che il probabilmente il passo più facile è a iniziare a a tradurre se però avete interesse imparare ehm strumenti o abilità nuove o se volete migliorare un qualcosa che avete già iniziato a studiare mettetevi in contatto con qualcuno della della community e vi può aiutare anche vedere quali sono i team a cui ehm a cui potrebbe convenire aggiungervi e soprattutto questo mio consiglio io lo applico sempre in tutte le cose insomma tutte le esperienze che inizio forse perché sono un po' pesante ma eh trovo in trovo un beneficio ehm io mi metto sempre dei ehm degli obiettivi di apprendimento perché sennò come Margherita mi posso annoiare quindi poi dopo poco voglia di cambiare e se invece vedo che ho un obiettivo specifico mh per il quale imparerò una cosa che mi potrebbe essere utile a livello lavorativo o a livello personale solo per arricchire le mie conoscenze poi riesco anche a focalizzarmi su un progetto e a non perdere il focus e quindi e questo soprattutto è importante quando anche quando si fa un lavoro di tipo volontario quindi non siamo retribuiti per farlo se eh sono so due settimane o tre più impegnative eh magari posso perdere il ritmo e poi oh vedo un'altra cosa e mi muovo su un altro progetto e invece per me mettermi proprio delle degli obiettivi di apprendimento mi mi aiuta e poi quando li raggiungo mi mi sento bene ehm e poi sì senza dubbio eh creare contatti anche a livello personale ho conosciuto delle persone fantastiche nella community di wordpress in Italia altrove tante di queste persone e poi sono diventate amiche quindi eh proprio senza senza prezzo quello che ho quello che poi mi è ritornato indietro a livello a livello umano e poi mi sembra eh per ritornare al discorso di ehm pari opportunità a livello globale ehm comunque non dimentichiamoci che contribuendo a warpress stiamo contribuendo a a un progetto che ci sopravviverà e che aprirà le porte a un'infinità di persone che sono in situazioni completamente diverse da quelle che possiamo avere ciascuno di noi e quindi insomma anche il senso di star contribuendo a a un progetto con un obiettivo una missione ehm una missione così ampia mh a me scalda il cuore per cui io questa è la mia storia e le mie le mie raccomandazioni ora scusa Matteo mi sa che ho parlato un po' tanto grazie mille bellissima bellissima storia adesso arriva il turno di Gloria anche Gloria ha fatto parte del team organizzatori del mio primo warcamp in assoluto quello di 2019 e anche di altri warcamp che comunque ho nel cuore ciao 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 la mia storia è un po' diversa intanto non sono una poliglot non è vero molto molto allora io aiuto i poliglot però non sono una poliglot io sono io contribuisco principalmente a wordpress nel nel team del forum di supporto e comunque nasco come supporter che poi i poliglot inglobino pian piano ogni membro che partecipa alla community è una cosa diversa però insomma la mia storia la mia storia comincia perché c'è stato un momento della mia vita in cui sono stata una blogger erano gli anni dunque leonardo aveva sei anni quindi era il 2008 ho iniziato a farla blogger ho iniziato a farla mamma blogger e usavo una una piattaforma di blog di google mi sembra che si chiamasse proprio blogger e avevo già iniziato a studiare per piacere personale html css quindi insomma cominciava ad addentrarmi nei meandri di come si fanno i siti web e e quindi a un certo punto sono una persona curiosa e volevo personalizzare il mio blog però la piattaforma aveva dei limiti e quindi cercando su internet cerca che ti ricerca salta fuori wordpress e visto che era un periodo in cui appunto ero molto ero ero coinvolta nella comunità delle mamme blogger forse siamo state le prime mamme blogger vanno andate vanno andate anche le mamme blogger e e quindi mi compro il nome a dominio mi salto wordpress come ricorda margherita l'installazione di wordpress all'inizio era un pochettino impegnativa richiedeva quelle due o tre conoscenze o quantomeno capire quello che si leggeva sui manuali di istruzione che si trovavano in rete e da lì è diventato un lavoro perché modificare wordpress a me mi faceva mi faceva un sacco era un sacco bello cioè io ho proprio messo manuteni ho scritto php il codex per me era la bibbia e quindi non dico che sono diventata una sviluppatrice però comunque ho mi sono addentrata parecchio nei meandri di wordpress e alla fine c'è un cane c'è un cane che mi reclama e alla fine non so se quante persone se ne accorgono ma nella nella pagina della bacheca di wordpress esce fuori un fantastico widget che dice che ci sono degli eventi vicino a voi ho scoperto questa cosa sono andata poi sul gruppo del meetup di wordpress e per un anno non ho fatto niente mi sono iscritta per un anno sono rimasta iscritta perché ero convintissima che questi meetup fossero per super nerd super programmatori altro che sindrome dell'impostore cioè proprio ma io che ci vado a fare lì non è posto per me mi prenderanno tutti in giro diventerò nero come calimero e poi alla fine un febbraio del 2017 c'era un talk talmente interessante che mi permetteva anche di acquisire delle competenze in più e quindi mi sono lanciata cioè proprio quando fai il tuffo nell'acqua gelata e dici vado mi metto in fondo mi nascondo nessuno mi vede io prendo quello che mi serve e me ne me la filo via il talk è stato interessante e in quel talk c'era anche poi francesca barano che parlava e parlava della community e quindi lì ho scoperto che dietro a un programma c'erano le persone che è stata una cosa fichissima da scoprire ho scoperto che c'era un forum di supporto perché ci sono non era una cosa che non sapevo e mi sono resa conto che potevo contribuire perché le domande che facevano sul forum di supporto le conoscevo e quelle che non conoscevo comunque mi spingevano a cercare la risposta e quindi mi hanno comunque portata a migliorare tantissimo le mie skill a livello professionale perché poi quella che era una passione non sono più una mamma blogger eh a un certo punto ho smesso di essere una mamma blogger sono diventata una web designer e quindi rispondere alle domande sul forum di supporto mi aumentava tantissimo le mie competenze ad aprile del 2017 ho partecipato come attendee al work camp di Torino ed è stato il primo e l'unico work camp in cui ho partecipato come attendee dopodiché mai più come attendee o sono nell'organizzazione o sono come volontaria o come speaker cioè insomma alla fine in qualche modo se non entro dalla porta entro dalla finestra in qualche modo e bellissimo il contributor day come raccontava Margherita un'esperienza estremamente emozionante perché quando si è lì tutti insieme eh senti senti proprio che che fai parte di qualcosa di un po' più grande e poi ci sono le persone l'ho già detto le persone sono meravigliose le persone che contribuiscono a wordpress sono ancora più meravigliose e a il work camp c'è stato a Torino a ad aprile io a giugno ho fatto il mio primo talk al meetup di Torino parlando della gerarchia dei template di wordpress visto che appunto si metteva si vetteva eh mettevo mano al al codice per modificare i temi non c'erano ancora tutti quei plugin una volta bisognava mettere mano al codice ti facevi il child team e via di codice ma sono stati è stato bello ed è bello che adesso ci siano i plug-in e e poi un mese dopo sono entrata nell'organizzazione del meetup di di Torino e va bene cioè come scrivo nella mia bio eh ho conosciuto la community e non si sono più liberati di me dal 2017 fondamentalmente oggi sono ehm moderatrice del forum di supporto eh ogni tanto aiuto i poliglots e appunto in questo momento siamo impegnati nell'organizzazione del work camp europe che è un'esperienza eh intensa e quindi anche da questa esperienza sto sto imparando tanto e è una è un'esperienza intensa e e e quell'intensità che dici non vedo l'ora che arrivi e allo stesso tempo non vedo l'ora che finisca però insomma sappiamo che stiamo facendo qualcosa di bello per i partecipanti e quindi questo poi alla fine ripagherà delle fatiche di oggi e basta non ho altro da aggiungere non mi viene in mente altro. Grazie mille Gloria. Lasciamo un po' di spazio se qualcuno ha delle domande? Ho visto che ci sono domande in chat. beh in chat ci sono soltanto si può partecipare anche senza compilare le varie call quella era una mia battuta di sarcasmo ah era una battuta di sarcasmo? vabbè allora perché anche io come te appena che ho visto call for speaker c'è Margherita che ha alzato com'è ste? ho alzato la mano perché volevo aggiungere delle cose perché diciamo quando ci siamo messi d'accordo Matteo una cosa che avevi messo in evidenza che avevi chiesto era come ci ha cambiato entrare come è cambiata la nostra vita conoscendo diciamo la community al di là diciamo dell'esperienza che ne so lavorativa e allora siccome mi ero scritta alcuni punti che volevo mettere in evidenza volevo dire condividere con tutti insomma la prima cosa che personalmente ho acquisito è che la community mi ha permesso di continuare a migliorare la mia autostima e la consapevolezza insomma di me stessa delle mie delle mie diciamo possibilità ma non tanto diciamo al dirmi quanto sono figa no ma piuttosto ehm come ogni persona abbia veramente no un valore importante all'interno della community quanto ehm e quanto possa fare la differenza eh ciascuna persona all'interno della della comunità e questa appunto è una conquista eh continua perché perché se uno lo vuole insomma lo lo desidera lo lascia cadere eh l'esperienza della community eh offre un sacco di occasioni per uscire dalla propria zona di comfort io eh ricordo che la prima volta eh la prima volta proprio il primo meetup ad Ancona mi trovai davanti tipo 40 persone e io non avevo mai parlato eh in pubblico ehm quindi no ti trovi a dover affrontare no anche appunto la timidezza la sindrome dell'impostore eh diciamo tutto quel no che ci siamo un po' dietro eh anche diciamo come in quanto donne ecco visto che abbiamo parlato anche di di femminismo siamo all'interno della settimana no del rosa digitale e quindi ecco questa cosa la volevo la volevo diciamo mettere proprio in in evidenza e l'altra cosa che vorrei vorrei raccontare è che grazie a Isotta che nel 2022 ha segnalato una un'iniziativa della fondazione di WordPress io ho partecipato ad una selezione per una borsa di studio messa a disposizione proprio proprio dalla community dalla fondazione eh questa borsa di studio eh praticamente permetteva di partecipare ehm a WordCamp US nel 2022 e quindi ho fatto come la prima alla prima selezione del del corso di web design eh ho fatto questa application proprio a kamikaze no quindi senza senza pensare effettivamente alla possibilità che di di essere scelta e e alla fine insomma sì sono stata selezionata insieme a altre eh due 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 ragazze eh e abbiamo partecipato a questo a questo WordCamp US e per me quello è stato uno dei momenti cruciali no eh della dell'esperienza all'interno della community perché 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 in sostanza era era la prima volta che che uscivo dai confini dell'Europa eh quindi diciamo quando sono stata selezionata in fretta e furia ho dovuto fare il passaporto che non avevo eh e per me è stato un momento veramente come dire mh di grande crescita perché perché andare e partecipare a WordCamp US ehm ha significato eh entrare no nella nella community oltreoceano cioè vedere oltre le nostre facce che ci vediamo sempre ai WordCamp in giro per per l'Italia no per per l'Europa vedere altre persone che magari non lo so eh di cui ho letto il nome dentro lo Slack internazionale so che so che fanno magari che partecipano a determinati progetti eccetera no quindi vai lì è un po' come se incontrassi no la tua rockstar eh preferita e in quel momento poi dopo io sono entrata in contatto con il team training e e poi ho cercato in sostanza di riportarlo qua in Italia quindi ecco eh che cosa mi ha dato la contribuzione senz'altro mi ha dato eh come diceva anche Gloria no le persone la 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 tutta un ecosistema di 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 gente no che parla la mia stessa lingua anche se sta dall'altra parte del no del del mondo perché perché lavoriamo tutti quanti insieme sullo stesso progetto con una eh eh condividendo appunto gli stessi gli stessi valori per me questa cosa eh cioè non 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 apprezzo non non cambierei con nient'altro grazie Margherita ho visto prima Giulia che aveva accesi il microfono no? No io volevo solo dire che mi è piaciuto molto sentire le loro storie eh che mi sarebbe piaciuto che le avessero sentite anche un paio di persone che ho invitato ma alla fine non sono venute perché comunque segna quando cioè è bello sentire come quando da comunque un'esperienza negativa a loro hanno tutte quante tratto un qualcosa di molto positivo chi magari perché da altre esperienze chi magari da qualcosa che è nato come volontariato e quindi è stato molto interessante da seguire grazie Giulia da ciò che se riesco dovrei buttarli su e wordpress tv adesso poi mi faccio un attimo supportare e quindi possono poi condividilo comunque anche con chi non c'era se ho ancora due minuti di tempo volevo aggiungere una cosa che sì mi do la risposta da sola grazie a te ci mancava che mi dicessi no non puoi ciao adesso tutti se ne vanno e rimango io e allora volevo solo dire questo la cosa straordinaria è che per quanto mi riguarda ma credo anche le persone che sono intorno a me contribuisco a wordpress perché credo anche nel valore ideale che questo anno cioè la visione di wordpress è rendere internet un posto migliore e renderlo più democratico no? questo è il climb di wordpress quindi come dire c'è una finalità ideale c'è un'adesione ideale un'adesione a questo ideale contribuire a wordpress mi aiuta tantissimo a sviluppare nuove competenze se sono nell'organizzazione team lead di uno dei team dell'organizzazione di WordCamp Europe se ho fatto domanda per avere WordCamp Europe a Torino è perché sono arrivata fino lì per gradi ma organizzando WordCamp Torino insomma lavorando nella community internazionale quindi stringendo legami anche con la community internazionale ma la cosa straordinaria è che tutto quello che fai e che fai gratuitamente all'interno di Wordpress in realtà è visto è visto è visto da tutti anche se tu non te ne accorgi tant'è che se io lavoro a Yoast oggi non sono non è per le mie competenze tecniche che vabbè anche un po' acquisito negli anni ma io lavoro in Yoast perché chi mi ha assunto ha visto il lavoro che io stavo facendo nella community e ha visto come io stavo agendo nella community quindi come dire mi ha conosciuta come persona e ha deciso che io potevo essere parte di quell'organizzazione lì le competenze tecniche poi le avrei acquisite ma avevo delle come dire caratteristiche personali che erano compatibili con quella cultura aziendale questo secondo me è una cosa che anche se non cerchiamo lavoro mentre siamo in Wordpress però sappiamo che il nostro lavoro comunque viene valorizzato è visto grazie Laura aggiungo ancora una cosina io visto che abbiamo ancora due minuti un altro motivo per cui contribuisco a Wordpress è perché comunque Wordpress è gratuito lo riceviamo gratuitamente ce lo troviamo bello tradotto in italiano e adesso sappiamo anche perché e quindi visto che è parte del mio sostentamento e lo ricevo in modo gratuito a me fa piacere restituire una parte di quello che ricevo contribuendo comunque al suo mantenimento perché insomma più più volontari ci sono e più a lungo questo prodotto sarà a disposizione di tutti e sarà aggiornato e tutto quanto quindi mi fa piacere restituire un pezzo di quello che ricevo grazie Gloria anche perché comunque il discorso si basa su su questo e Wordpress ce l'ha in tutti i team fortunatamente scusa Zotta ti interrotto ah no scusa ho detto beh non sia Michael nemmeno io mi aggiunga alla fine Matteo serviamo ancora due minuti e invece ti vorrei chiedere se potevi o se magari Sara poteva parlarci un po' di più di rosa digitale approfittandone o perché a me sembrerebbe interessantissimo magari un domani c'è esplorare l'idea di organizzare eventi insieme quindi eventi di Wordpress però fatti da donne per le donne interessate a questo mondo o in condivisione con altri con altri collettivi che però si battono per per la stessa missione quindi possiamo certamente allora Rosa digitale è appunto un movimento per la parità di genere in campo STEM anzi STEM diciamo che a marzo abbiamo lanciato con Matteo questo evento chiamato Rosa Digital Week che dura per tutto il mese e in questo evento partecipano tante insegnanti specialmente in insegnanti di scuola primaria organizzando degli eventi sia tecnologici che non cioè magari raccontando la storia di grandi donne che hanno fatto la differenza per esempio ma anche eventi come può essere cioè eventi di programmazione possono partecipare anche aziende professionisti ogni ogni regione ha un referente sia maschile che femminile e quindi gli organizzatori di eventi possono far riferimento a loro per qualsiasi informazione legata alla Rosa Digital Week grazie mille grazie Sara prego diciamo che abbiamo ancora quattro minuti esatti c'è nessuna domanda io scusate posso io sono una novellina di wordpress quindi volevo non avevo domande ma volevo solo ringraziarvi perché ovviamente siete state in questa serata di grande ispirazione perché vabbè io come altri di voi che hanno raccontato mi trovo invece nella fase tra virgolette negativa nel senso che sono stata lasciata a casa dopo 24 anni dall'azienda dove lavoravo in modo non bellissimo quindi vabbè però diciamo si va avanti e quindi un paio di anni fa mi sono messa a studiare un po' wordpress ho fatto un corso di sviluppo web eccetera però diciamo che la community l'ho scoperta abbastanza di recente ecco ho iniziato proprio traducendo perché ho lavorato per 24 anni in una società di traduzioni e quindi ho iniziato da lì ecco per cui sto entrando a piccoli passi adesso assieme a Matteo sto facendo un mentorship program che appunto ci sta aiutando a entrare sempre di più nella comunità e quindi niente solo ringraziarvi perché ovviamente le vostre storie mi hanno tirato un pochino su ecco quindi mi hanno dato un po' di energia per rimettermi in gioco ecco dopo un periodo negativo quindi vedo il prossimo talk che proporrò a un qualche warcamp insieme ad Antonella come la traduzione può salvarti dall'alcolismo va bene sono un po' timida anch'io quindi vabbè anch'io sono timida ma non è vero la comunità è accogliente Antonella tu scrivi va bene va bene ma infatti io mi trovo meglio a scrivere proprio perché la mia timidezza mi però vabbè dai cercheremo di buttarci anche in altro modo quindi grazie mille e vieni al World Camp Europe mai fatto domanda da volontaria al World Camp Europe a Torino no perché attualmente ho iniziato da poco a lavorare vabbè per un amico che mi ha chiesto di aiutarlo perché aveva bisogno e quindi sono un po' cioè è un lavoro temporaneo nel senso che non è il mio lavoro quindi è proprio un aiuto che gli sto dando e quindi sono un attimo cioè sto pensando se partecipare ecco non come non ci pensare non ci pensare compra il biglietto sono stati rilasciati sono stati rilasciati sono andati esauriti finora quindi adesso c'è una nuova una nuova rilascio fondata ah bene allora ho un'altra occasione va bene grazie grazie Antonella grazie a te poi comunque sul sul testo del meetup ci sono comunque il link di tutte le biografie su wordpress.org di tutti quindi beh c'è anche tutti i profili social quindi ci si può rimanere comunque in contatto come si preferisce sì poi c'è Slack no? è dentro Slack è dentro perfetto beh direi che possiamo salutarci vi ringrazio tutte è stato bellissimo meetup grazie mille grazie Matteo ciao buona serata buon appetito ciao